Signor Sindaco, un viaggio in Israele appena tornato, come mai questa missione così particolare, tra l'altro unico sindaco italiano aver preso parte a questa sorta di forum internazionale? Sì, perché si svolge ogni anno in Israele un congresso internazionale di sindaci su invito del Ministero degli Esteri e dell'organizzazione giudaica americana insieme ad altre sigle riconosciute nell'ambito ONU. Si limita ad un invito a 25 sindaci, ogni anno diversi, sono giunti alla 33esima edizione per affrontare i temi dell'uguaglianza dei cittadini, il tema della lotta all'antisemitismo, alle differenze razziali. Infatti incomincia ogni anno questo incontro con una visita al monumento, all'eccezionale, che consiglio di vedere a chi non è ancora andato in Israele, toccante, commovente e in qualche modo che fa rabbrividire, museo della storia della Shoah, della soppressione di milioni di ebrei nel mondo, con testimonianze inedite in un museo organizzato in maniera eccezionale. Occasione di incontro per valutare il tema con i sindaci, dell'organizzazione della sicurezza delle comunità e dello sviluppo delle tecnologie a favore delle comunità. Devo dire che con piacere l'organizzazione era così fatta. Ogni mattina c'era un dibattito con una relazione di importanti esponenti del giornalismo, della cultura, di politici di diversi orientamenti, ex primi ministri come Olmert ieri mattina, uno scenario sulla politica internazionale e sulla politica economica. E poi confronti sui settori della tecnologia e della sicurezza. Devo dire che è stato utile, faticoso, con impegno organizzato militarmente, ma sicuramente è utile per capire ancora meglio come il progresso delle nostre comunità debba passare sempre di più utilizzando tecnologie d'avanguardia. Potrebbe essere un'occasione per rapporti futuri, magari anche chissà per qualche collaborazione internazionale che possa anche reperire fondi per gli obiettivi che lei prima indicava. Guardi, intanto è stata un'occasione, oltre che per i motivi che ho detto, per incontrare sindaci di altri paesi. ho stretto un buon rapporto con il sindaco di Buenos Aires, con il sindaco di Belgrado, con il sindaco di Kiev, con diversi sindaci con cui si apre la mente e ci si apre al confronto con altre realtà per capire come gestire al meglio le proprie comunità. E poi perché oggettivamente ho anche affrontato il tema sul piano della politica, non potendo trascurare quanto all'Italia, noi italiani, che poi siamo vicini, siamo dall'altra parte del Mediterraneo, sia importante trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese, riconoscendo diritti a tutti. E devo dire che in tutti questi interventi ho colto una volontà di trovare una soluzione. Là siamo in campagna elettorale, perché fra poco più di un mese si vota per le elezioni politiche del rinnovo della Knesset. Ma poi è un'occasione anche per cercare di offrire delle opportunità di investimento nella nostra città, a capitali esteri, perché la nostra città vuole svilupparsi e ha bisogno di investitori.